Due serate di musica dedicate ai giovani grazie ad Arezzo Crowd Music Festival. Un evento per noi un po' che risulta essere un unico perché organizziamo all'interno del Lab 2030 di Viamasaccio queste due serate di musica con venerdì da Roma Giancane e sabato la band fiorentina La Notte, sempre due artisti dell'etichetta Woodworm che è insomma uno dei punti di amante di questa città. E in programma due notti di concerti live che dalle 22 animeranno i locali del Lab 2030 in Viamasaccio 6 ad Arezzo, il tutto ad ingresso libero. Oltre a portare come sempre degli artisti nella scena retina, ha l'obiettivo di riqualificare un luogo diciamo poco valorizzato della periferia di Arezzo così come facciamo con l'associazione Arezzo che spacca, ad esempio come è stato con il Malpighi Festival. Quindi l'intento è proprio quello di portare delle iniziative culturali e creative che mancano un po' nella città. Non solo, al Lab 2030 oltre al festival sarà presente anche la mostra fotografica di Susanna Caperdoni e D'Agnese Andreoni. La maratona di musica di Arezzo Crowd Music Festival si concluderà infine domenica 18 con la cena con delitto a cura di Baobab. È l'ennesimo progetto dei centri giovani comunali, realizzata poi con neanche tante risorse, quindi ringrazio Arezzo che spacca che con poco riesce a dare tanto.